All'EUAI si è dimesso il capo dell'Agenzia per la Gestione delle Emergenze di Maui, agenzia criticata per non aver suonato le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città di Lahaina. Il sindaco ha accettato le dimissioni dell'amministratore che le ha motivate con problemi di salute. Andaya aveva detto in conferenza stampa di non essersi pentito per non aver suonato le sirene d'allarme. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, salito a almeno 111 morti.